Una camminata a favore della ricerca contro il cancro. Insomma, il CUS con l'Università insieme per una manifestazione così importante. Ecco l'importanza di questa giornata, Presidente. Ma è importante essere innanzitutto in rete con le altre università italiane e far passare un messaggio sociale a mio avviso fondamentale. CUS e Università sono la stessa famiglia e insieme cerchiamo di trasmettere i valori fondanti delle università, la formazione, lo sviluppo culturale, la sostenibilità, anche l'importanza dello sport e dei sani stili di vita. E oggi soprattutto rispetto al ruolo della donna, la parità di genere e correlatamente anche alla lotta contro il cancro, noi ci siamo e vogliamo darne testimonianza.